La stagione finalmente è iniziata, non è iniziata nel migliore dei modi vista la sconfitta di domenica scorsa ma è sicuramente un punto di partenza per programmare l'inizio del campionato? Questo sì, non è andata bene malgrado la nostra voglia di fare bene fino alla fine abbiamo combattuto come meglio possibile però magari veniamo da una bella preparazione quindi ancora con gambe imballate, tutto quello che viene su caricato dalla preparazione c'è ancora da lavorare molto, abbiamo il gruppo nuovo, quindi ragazze nuove che ancora non si conoscono stiamo cercando bene o male di capire pure quello che ci richiede il mister su movimenti vari sulla tipologia di gioco che magari ancora i meccanismi non sono tanto funzionali speriamo lavorando di fare meglio la prossima partita che sarà il giorno 18 della prima di campionato Il gol l'hai trovato, peccato che non è servito alla vittoria ma fa sicuramente piacere, su questo non c'è dubbio certo, il gol è sempre un piacere farlo, peccato che non è servito a poco perché o perlomeno era servito un po' da stimolo perché stavamo già 3 a 0, il 3 a 1 già poteva riaprire la partita però non siamo riusciti a fare altro quindi peccato, speriamo per la prossima Partiamo con un passo falso tra virgolette perché era comunque mi serviva, era un test per capire un pochino come eravamo, qual era lo stato di forma psicofisica delle ragazze devo dire che al di là del risultato diciamo che ci può stare perché il Catania è una squadra che conosco benissimo è piena di gente, di ragazze giovani comunque che hanno già avuto l'esperienza in Serie B è una bella squadra, Mister Scutoli le coltiva da un bel po' di tempo diciamo che hanno raggiunto degli ottimi risultati anche l'anno scorso quindi mi aspettavo una gara simile, mi aspettavo che le ragazze ovviamente che vengono fuori da una preparazione abbastanza tosta quindi mi aspettavo che avessero delle difficoltà e così è stato Quali sono gli aspetti che l'hanno meno convinta e quelli invece più confortanti venuti fuori domenica scorsa? Mi ha convinto il cuore che hanno messo le ragazze questo è un gruppo che è molto unito è un gruppo che andrà e andrà avanti anche per questo motivo perché li ho scelte personalmente sono persone che ci mettono testa e cuore quando vanno in campo quindi mi ha convinto questo aspetto mi ha convinto il fatto che comunque hanno cercato di giocare pallone a terra non hanno cercato di spazzare i palloni come comunque capitava l'anno scorso eravamo nella serie inferiore e ho visto le ragazze stanno provando a mettere in pratica quello che io ho chiesto e devo dirti la verità mi hanno dato dei segnali positivi sono persone che giocavano insieme alcune per la prima volta altre che hanno bisogno di capire il salto di categoria perché c'è un passo completamente diverso e se ne sono accorte ecco questa gara di Coppa Italia mi è servita a questo mi è servita per fare capire alle ragazze e per testare io qual è il loro grado di preparazione e il loro grado anche il loro approccio mentale alla gara per il resto non sono preoccupata perché qualcuno magari si sta facendo delle cattive idee sulla squadra non sono preoccupata per nulla credo in una comoda salvezza credo in questo gruppo che ho l'ho voluto io e lo continuerò a portare avanti con tranquillità fino a fine stagione